Bentornati in questo nuovo video, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati con i nuovi aggiornamenti meteo. In questi giorni nella nostra benisola italiana si stanno muovendo delle masse ad aria bollenti di origine nordafricana che però successivamente tra il 27 e il 28 verrà spazzata via da aria di origine artico-marittima che avrà la temperatura anche fino a 15 gradi meno rispetto a quella attuale. Questo contrasto oltre che ad un crollo termico porterà anche delle precipitazioni dapprima su tutto l'arco alpino tra il 25 e il 26 quindi nei prossimi giorni, poi la sera alle 27 vediamo bioggia in tutto il nord anche fino al medio di Reno, Lazio compreso e nei giorni successivi bioggia in espansione anche sul basso di Reno e qualcosa anche sul basso di Reno. Il 30 probabilmente sarà l'unico giorno di tregua attenzione perché il 31 una nuova perturbazione atlantica di notevolissima intensità colpirà tutta la nostra penisola da nord a sud ad eccezione della Calabria, della Basilicata, della Puglia e della Sicilia e anche della Sardegna dove a causa di un richiamo caldo da sud la pioggia, la perturbazione non riuscirà ad espandersi a latitudini così basse. Per ora è tutto iscrivetevi al canale